Sì, grazie Presidente. Anche noi faremo un unico intervento su tutti gli ordini del giorno. Comunichiamo subito all'Aula che voteremo favorevolmente agli ordini del giorno 1, 2, 3 e 9. Vado a indicare le motivazioni, sia in un caso che nell'altro. Anche noi abbiamo fatto la stessa considerazione fatta dai colleghi di Fratelli d'Italia che secondo noi sono scritti tutti in maniera corretta anche nella parte in cui indicano proprio a considerare la necessità di realizzare comunque l'opera di interesse generale. Per cui proprio al di là con fondi pubblici diamo ovviamente questa interpretazione che correttamente è stato ribadito adesso dal consigliere De Primo perché stiamo votando la delibera di revoca. è ovviamente un nodo molto importante l'unificazione della via del mare con la via Ostiense. Per quanto concerne l'ordine del giorno 2, la Roma Lido, qui è un grande interesse e l'amministrazione manifesta su quest'opera. Voteremo favorevolmente. Ricordo all'Aula che c'è uno studio effettuato dal Dipartimento Mobilità e dall'assessorato che è stato mandato alla Regione un anno e mezzo fa dove prevede il rifacimento totale dell'opera compresa anche una nuova diramazione da Ciglia Sud all'aeroporto di Fiumicino e 31 treni. Ovviamente qui deve rispondere la Regione Lazio che è la proprietaria dell'opera e su questo non siamo favorevoli, di più che favorevoli. Poi voteremo sì anche all'ordine del giorno numero 3. Per quanto concerne il 4 ci asterremo ma non perché non siamo d'accordo ma semplicemente perché è già passata una delibera in aula che prevede quest'opera per cui la stiamo già facendo e visto che è una responsabilità di Roma Capitale su questo ci asteniamo ma in realtà si sta andando nella direzione dell'ordine del giorno esattamente come si sta andando nella direzione dell'ordine del giorno con il numero 6 che prevede la riqualificazione dello stadio Flaminio anche qui c'è un'opera molto intensa dell'amministrazione sulla riqualificazione dello stadio Flaminio che stiamo già portando avanti e su questa ci asterremo per questo motivo. La stessa cosa è per il campo testaccio numero 7 e voteremo favorevolmente all'ordine del giorno numero 9. Grazie Presidente.